Anche nelle Marche sabato 3 luglio sono arrivati gli sconti estivi. Questa mattina siamo venuti in centro per sapere dai titolari di alcune attività e di alcuni negozi com'è andato questo primo weekend di sconti. Abbiamo avuto un buon incremento sia a Pesaro che a Ancona perché abbiamo due store sia a Ancona che a Pesaro e i saldi stanno andando molto molto bene e la gente richiede molto gli abiti per le cerimonie perché sono iniziate anche le cerimonie. Noi stiamo facendo un 50% su quasi tutta la merce e qualcosa anche 30-20%. Noi stiamo andando bene anche perché è Pesaro e stiamo lavorando benissimo con il turista che è tornato a Pesaro e soprattutto apriamo anche il giovedì sera che siamo aperti anche per fare il serale. È andato molto bene, sabato molto molto bene, poi domenica uguale e un po' meno il pomeriggio, poi anche il tempo non è stato dei migliori però è andata molto molto bene. Che tipo di scontistica avete applicato? Noi abbiamo ancora il 10-20% di più non riusciamo attualmente a farlo anche perché la stagione è appena iniziata quindi con i costumi così facciamo molta fatica a fare più del 20% in questo momento. È andata benino, mi aspettavo di più, un pochino più entusiasmo, un po' più di movimento, però è andata così e speriamo che è migliore, la gente un pochino si motiva a prendere le cose in saldi. Noi siamo partiti con il 20-30% e abbiamo anche dell'articolo del 50%. È stato richiesto molto le borsa da mare e costumi e per il prossimo giorno penso anche un po' qualcosa sull'avvilamento. Le aspettative erano molto più alte e sinceramente ho lavorato più i giorni prima, le settimane prima, anche se non c'erano gli sconti, piuttosto che il weekend, anche se poi dopo la domenica comunque siamo stati chiusi, ma sabato pensavo di lavorare meglio. Vediamo un attimo anche perché comunque durante il weekend la gente va al mare, ne approfitta comunque per stare al mare, quindi forse durante la settimana si lavora meglio, non lo so, bisogna che vediamo e aspettiamo. Qui che scontistica è stata applicata? Al momento il 20%, poi dopo andando avanti vediamo. Le difficoltà è inutile nascondercelo, ci sono sempre perché comunque la pandemia, anche se adesso è un po' passata in secondo piano, ma sotto traccia c'è sempre una certa paura. Però le aspettative in ogni caso sono abbastanza alte, i saldi estivi hanno la coda lunga, a differenza di quelli invernali che si svolgono, dove c'è il grande boom nelle prime due settimane, i saldi estivi arrivano anche fin verso la fine di agosto, quindi è un incremento lavorativo che c'è sempre giornalmente, tutti i giorni, che arrivano fino a fine agosto con il giro dei turisti. Evitiamo un attimo, se possiamo per una volta, di andare a comprare senza fare i nomi e i cognomi, ma sappiamo già di chi stiamo parlando, contro le multinazionali dell'online, che sono quelle che stanno distruggendo il tessuto socio-economico nostro italiano. Le piccole e micro imprese stanno soffrendo in maniera mostruosa, perché questi colossi, a parte che non pagano l'IVA come la paga un commerciante, e non pagandoli in quel modo lì sono già più competitivi sul mercato. Facciamo rimanere i soldi fra di noi, dando l'opportunità ai nostri operatori e ai nostri commercianti di rimanere a galla.